Beh, Marina, qual'è il regalo più bello che hai fatto? Quali sono i miei figli che ti chiedono? Iniziamo a fare un esempio, io ho il regalo e scrivo che. Ora iniziamo con la prima cosa e poi iniziamo a parlare. Sì, che? Qua'è un'famore? Non ho capito, che ho davvero davvero a me d'arrivo, anche per i denunci. Ricolato. Zolotone bracchette? È italiano, caro? Sì, lo vedo. RUCA! Non con l'handicato. È BRACCHO. No, no, braccialetto è un genio sopra me Braccialetto Isolata Un braccialetto Doro Smatrite Tazza doro Ah, carasho Allora, smatrite Braccialetto è tattacoi Braccialetto è tattacoi Tattacoi mi facciamo solo i miei Se vedevi i miei miei Non è un po' più l'arrivo Non è un po' più l'arrivo Non è un po' più l'arrivo Beh Ho regalato un braccialetto doro E tani siomari A chi l'hai regalato? Uggi Atvicai Ispolzuia Mi stimini Vinite il Navapadija Ia evo padarila Sui potrugui Sui potrugui Ia evo? Ia evo? Ia evo? Ia evo? Allora mia Filio... 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 Filiocia 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 A v com'nate Eta angla camera? In camera In camera Servizio in camera Room service L'ho regalato alla mia filiocia A etanissio Bene Marina Per quale occasione Na kakoi sluciae Eh A ti dazna отвечat Ea Ia Evo Padarila Naprimire Na dzień rostini Na racuncun Na Eee Na Poluceni Diplom Ne znaju Eee 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 Mogi Gliart Na Kastro 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 Eee 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 che glielo per preciastie al glavola regalare si per 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 articolo che articolo per i giorni ma no per il compleanno bene non so non so bene allora glielo regalato per il suo per il compleanno va bene va bene qual è il regalo più bello che hai fatto che cosa che cosa ora non ora non 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 come non 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 sì la Alla sorella? C'è a sorella? A mia sorella. Li ho regalati a mia sorella. Bene. Li ho regalati a mia sorella. Per quale occasione Nakako istruisce Ia, yei, ich, padarela? Li ho regalati a mia sorella? Regalati. No, spamagate l'Iglacos сначала. Li ho regalati. Bene. Oghi. E жеras. Also a na woselie o Pula übrat, No na woselie ne byl u nas, perché non è un pazzesno. Non ci sono le nostre tradizioni. Non ci sono le nostre tradizioni. Non ci sono le nostre tradizioni. No, no, è chiaro. Ma si può tradizionare. Non ci sono un altro termine. Perché non è così importante. Ma si può tradizionare. Per fare? Per fare. Per fare? No, 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 no. Prosto per ist. Per? Per trasloco. No, 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 no. Articoli. Per il trasloco. Per il trasloco. Per la fine del trasloco. Per il trasloco. Per il trasloco. Va bene. Lenocca, qual è il regalo più bello che hai fatto? Ha. Ho regalato la vita. Mi piace il quale c'è l'occolta? Lo regalata... C. 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 questo è un'interessante questione a qualsiasi Lielo Se? Regolanta Se? Per... Suopopriano Per suopopriano Per il futuro De no Horso! Per compliano Per la festa di San Nicolo Per la festa di San Nicolo Per la festa di San Nicolo, vero? Per la festa di San Nicolo. Va bene, va bene. Ora, praticamente ti chiede i vostri domani, non si trugge strani. Marina, qual è il regalo più bello che hai ricevuto? Io, Paolo, c'è la tua pagina. Ho ricevuto? Sì. Ho ricevuto. Fa scocci. Non è che non è un dono. Ho ricevuto, il rispondo. Ho ricevuto una scezione di ricevuto. Perché ti già usato la ricevuto. Ho ricevuto una scezione di ricevuto. bene a che voti io palucilla io io palucilla no 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 no, in questo modo non c'è una piaccia attraverso io io palucilla ma padre già c'è da io mi sti mie ne mi dite a pa di sacco da mi ma mi facciamo mi no non ho bisogno io palucilla io la Lo ricevuto da mio marito. E' un'ultima question. Allora, Marina. On mi e io подарio? Sì. Mi e io подарio. A di sì che? Cominirono in isti un minuto. Me? Me? La? Sì. Me la regalata. Regalata, sì? Regalata. Per cumpleaun. Per? Сколько дней рождения? Per il cumpleaun. Bene. Здесь это qui? Sì. A qua? Это что? Потому что я говорю qui, а мне говорят qua. Я думаю, блин, кто же из нас олень? А, равно. Примерно. Не равно, примерно. Здесь, там, сюда, туда. Италианцы чаще всего используют, как будто это совершенно синоним. Но, нюанс есть. Куи. Или это имя, прямо здесь, прямо там, прямо туда. Куа, это где-то здесь, куда-то сюда, туда, где-то там, куда-то туда. Просто мы брали машину в аренду, и я его спрашиваю, что мы должны вернуть ее куи, сдать ее здесь, но он мне говорит, qua. Я говорю тебе, чаще всего итальянцы используют, как будто они совершенно синоними. На самом деле, на самом деле, разница есть. Он просто использует, чтобы не повторить так же слово. Как у тебя. Я не сказал, а почему? Куа. 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 На самом деле, логика есть. Ебрея, мы говорим, что я стою, я стою. Да, не стою, а где-то там. Хорошо. Юлия, какой ел регало пиу бео ви бео ви бео ви бео? Я, Паулу-челла. Пуа. Вау, рече гуотто? Се? Да. Как утащи? Ваканси. una vacanza una vacanza ma ferie... no no no, ferie è anche un posto ma qui non è usato, perchè non ho fatto qui non ho fatto un posto un viaggio, va bene, un viaggio ma ferie è quando provo, non quando provociano fiera e questo è ferie è successivo, quando risposto è esclusivamente non ci sono bene, ho ricevuto un viaggio a che voti è la parola? l'ho ricevuto sì da mia mamma da mia mamma bene per quale occasione, in qualche caso la mia mamma è la parola Mello... Obrazui Elyzio. Mello? Padre che è non io. Padre che è la tua mamma. Trede liceo. Averia, come spiegare? Mi il mio... Io... Adesso. Come spiegare in trete liceo e in strana c'è la glagola iniet. Che? Bit! E' un'eserci diota a druga glagola. A glagola iniet. E' un'eserci di... E' un'eserci di... E' un'eserci di... No, no no. Beh, non vi domaggare di barragge, in questo modo. Me? Sto riporto. Me? Me... La? La? Regala... Viazzo. regalato per il mio copriano va bene lenochka qual è il regalo più bello che hai ricevuto? ho ricevuto si i occhiali prada i occhiali prada bene il mio copriano il mio copriano il mio copriano il mio copriano va bene io ho ricevuto il mio copriano si il mio copriano per già che è da io a li o rici vu ti sì da babbo Natale da babbo Natale va bene bene on mi i padrì na raiasso sì no 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 scolka mi stimini tocca dva me i vtaro me li sì a sì rici vu ti padrì me li ha regalati te non c'è non c'è non c'è non c'è papbo Natale per Natale ma non c'è ma non c'è non c'è per l'anniversario della rivoluzione d'ottobre sì 22 settembre l'anniversario della cattavcina va bene diciamo приложения ниже в tablicz marina Aldo mi ha portato un regalo sì me l'ha portato per il mio compleanno bene aldo è è il mio in anglico è alldus l'italianz è è l'italianz Mi ha portato una scatola di cioccolatini, me l'ha portata per il mio compleanno, cioccolatini! Aldo mi ha portato dei fiori, me li ha portati per il mio compleanno. Aldo mi ha portato delle rose, mi li ha portati per il mio compleanno. Ho spomneto, cosa volevo sprosi? Spervo. Quando mi scrivo, per esempio, è il diritto diia diia, diia, diia e diia, in queli si non conosciamano, non lo chiamo se, se io in odio mi chiamo, adesso io in odio mi chiamo, a se io in odio mi chiamo? Non è possibile, è solo per la riuscita. Ma come quando avvice? In signora, signora... No, 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 no! Per gli uvaiati, le uvaiati, per i uvaiati, per i uvaiati per i uvaiati per i ospedali, Sacraggio Ecco 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 General Ricci Ecco Elgco a O per se Ma 食 Gentile A Forbes tra un uomo. è una buona o che la gente più cari ah, lo so. so, si, si la signora Rossi per i suori la futura sarà scatabile signora This è un uomo e questo è un uomo Spettabile Ikea, spettabile Vespa, ma Vespa non è piaggio, spettabile Vespa è per il prodotto. Spett è per cosa? Attra. Cultura per... ... ... ... ... ... ... ... ... Egregio, signore, 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 signore. e cosa fare? è l'alletnese l'alletnese collega non cambia la parola in un modo bene allora E grazie signori E grazie signori E grazie signori E grazie signori Bene Allo, ti ha prestato le sue videocassette, te le ha prestato le valentieri, e ciò che non puoi riposare? E le videocassette? Ressili s'economiere la cernilla Beh, eh, come cernilla C'è per ora? C'è per ora? Non è necessario E qui cernilla Cernilla E caracatezza C'è? 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 Un inchiostro nero. Ma per evo'ece come c'errnila. Ma non c'errnivo. Ma non si sape. 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 Ticò. Ticò e cacicò. Non si sape. Non si sape. Non si sape. Paolo le... Li ha prestato le sue videocassette. Si. Le ha prestate volentieri. Bene. Paolo ci ha prestato le sue videocassette. Ce le ha prestate volentieri. Bene. Paolo vi ha prestato le sue videocassette. Ve le ha prestate volentieri. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.